16 il ritratto di minerva già prima che mi fosse aperta la porta indovinai che qualcosa di grave doveva essere accaduto in casa sentivo gridare papiano e il paleari mi venne incontro tutta sconvolta la caporale e dunque vero 12.000 lire ma restai ansante smarrito scipione papiano l'epilettico attraversò in quel momento la saletta d'ingresso scalzo con le scarpe in mano pallidissimo senza giacca mentre il fratello strillava di là e ora denunzi denunzi e subito una fiera stizza ma salì contro adriana che nonostante il divieto nonostante il giuramento aveva parlato chi l'ha detto gridai alla caporale non è vero niente ho ritrovato il denaro la caporale mi guardò stupita il denaro ritrovato davvero addio sia lodato esclamò levando le braccia e corse seguita da me ad annunziare esultante nel salotto da pranzo dove papiano il paleari gridavano e adriana piangeva ritrovato ritrovato ecco il signor meis ha ritrovato il denaro come ritrovato possibile restarono trasecolati tutti e tre ma adriana e il padre col volto in fiamme papiano all'incontro terreo scontraffatto lo fissai per un istante dovevo essere più palido di lui e vibravo tutto e gli abbassò gli occhi come atterrito e si lasciò cadere dalle mani la giacca del fratello gli andai innanzi quasi a petto e gli tesi la mano mi scusi tanto lei e tutti mi scusino dissi no gridò adriana indignata ma subito si preme il fazzoletto sulla bocca papiano la guardò e non ardì di porgermi la mano allora io ripetei mi scusi e protesi ancor più la mano per sentirla sua come tremava pareva la mano d'un morto e anche gli occhi torbidi e quasi spenti parevano d'un morto sono proprio dolente soggiunsi dello scompiglio del grave dispiacere che senza volerlo ho cagionato ma no cioè sì veramente balbettò il paleari ecco era una cosa che sì non poteva essere perbacco felicissimo signor meis sono proprio felicissimo che lei abbia ritrovato codesto denaro perché papiano sbuffò si passò ambo le mani sulla fronte sudata e sul capo e voltandoci le spalle si pose a guardare verso il terrazzino ho fatto come quel tale ripresi forzandomi a sorridere cercavo l'asino e c'ero sopra avevo le 12.000 lire qua nel portafogli con me ma adriana a questo punto non poteva reggere ma se lei disse ha guardato me presente dappertutto anche nel portafogli se lì nello stipetto sì signorina la interruppi con fredda e severa fermezza ma ho cercato male evidentemente dal punto che le ho ritrovate chiedo anzi scusa a lei in special modo che per la mia storditaggine ha dovuto soffrire più degli altri ma spero che no 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 gridò adriana rompendo in singhiozzi e uscendo precipitosamente dalla stanza seguita dalla caporale non capisco fece il paleare stordito papiano si voltò irosamente io me ne vado lo stesso oggi pare che ormai non ci sia più bisogno di di si interruppe come se si sentisse mancare il fiato volle volgersi a me ma non gli bastò l'animo di guardarmi in faccia io io non ho potuto creda neanche dire di no quando mi hanno qua preso in mezzo mi son precipitato su mio fratello che nella sua incoscienza malato com'è irresponsabile cioè credo chissà si poteva immaginare che l'ho scinato qua una scena selvaggia mi son veduto costretto a spogliarlo a frugargli addosso dappertutto negli abiti fin nelle scarpe e lui il pianto a questo punto gli fece impeto dalla gola gli occhi gli si gonfiarono di lacrime e come strozzato dall'angoscia aggiunse così hanno veduto che ma già se lei dopo questo io me ne vado ma no niente affatto dissi allora per causa mia lei deve rimanere qua me ne andrò io piuttosto che dice mai signor meis esclamò dolente il paleari anche papiano impedito dal pianto che pur voleva soffocare negò con la mano poi disse dovevo dovevo andarmene anzi tutto questo è accaduto perché io così innocentemente annunzai che volevo andarmene per via di mio fratello che non si può più tenere in casa il marchese anzi mi ha dato lo qua una lettera per il direttore di una casa di salute a napoli devo devo recarmi anche per altri documenti che gli bisognano e mia cognata allora che ha per lei meritatamente tanto tanto riguardo e saltata su a dire che nessuno doveva muoversi di casa che tutti dovevamo rimanere qua perché lei non so aveva scoperto a me questo al proprio cognato l'ha detto proprio a me forse perché io miserabile ma onorato debbo ancora restituire qua mio suocero ma che vai pensando adesso esclamò interrompendolo il paleari no riaffermò fieramente papiano io ci penso ci penso bene non dubitate e se me ne vado povero 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 scipione non riuscendo più a frenarsi scoppiò in dirotto pianto ebbene fece il paleari intontito e commosso e che c'entra più adesso povero fratello mio seguito papiano con tale schianto di sincerità che anch'io mi sentì quasi agitare le viscere della misericordia intesi in quello schianto il rimorso che gli doveva provare in quel momento per il fratello di cui si era servito a cui avrebbe addossato la colpa del furto se io lo avessi denunziato e a cui poc'anzi aveva fatto patir l'affronto di quella perquisizione. Nessuno meglio di lui sapeva che io non potevo aver ritrovato il denaro che egli mi aveva rubato quella mia inattesa dichiarazione che lo salvava proprio nel punto in cui vedendosi perduto egli accusava il fratello o almeno lasciava intendere secondo il disegno che doveva aver prima stabilito che soltanto questi poteva essere l'autore del furto lo aveva addirittura schiacciato ora piangeva per un bisogno irrefrenabile di dare uno sfogo all'animo così tremendamente percorso e forse anche perché sentiva che non poteva stare se non così piangente di fronte a me. Con quel pianto egli mi si prostrava mi si inginocchiava quasi ai piedi ma a patto che io mantenessi la mia affermazione d'aver cioè ritrovato il denaro che se io mi fossi approfittato di vederlo ora avvilito per tirarmi indietro mi si sarebbe elevato contro furibondo. Egli era già inteso non sapeva e non doveva saper nulla di quel furto e io con quella mia affermazione non salvavo che suo fratello il quale in fin dei conti ovvio l'avessi denunziato non avrebbe avuto forse a fatir nulla data la sua infermità. Dal canto suo ecco egli si impegnava come già aveva lasciato intravedere a restituir la dote al paleari. Tutto questo mi parve di comprendere da quel suo pianto esortato dal signor Anselmo e anche da me alla fine egli si quietò. Disse che sarebbe ritornato presto da Napoli appena chiuso il fratello nella casa di salute. Liquidate le sue competenze in un certo negozio che ultimamente aveva avviato colà in società con un suo amico e fatte le ricerche dei documenti che bisognavano al Marchese. Anzi a proposito conchiuse rivolgendosi a me. Chi ci pensava più? Il signor Marchese mi aveva detto che se non le dispiace oggi insieme con mio suocero e con Adriana Ah bravo sì esclamò il signor Anselmo senza lasciarlo finire. Andremo tutti benissimo. Mi pare che ci sia ragione di stare allegri ora per bacco. Che ne dice il signor Adriano? Per me feci io aprendo le braccia e allora verso le quattro. Va bene? Propose Papiano asciugandosi definitivamente gli occhi. Mi ritirai in camera. Il mio pensiero corse subito ad Adriana che se n'era scappata singhiozzando dopo quella mia smentita. E se ora fosse venuta a domandarmi una spiegazione? Certo non poteva credere neanche lei che io avessi davvero ritrovato il denaro. Che doveva ella dunque supporre? Che io negando a quel modo il furto avevo voluto punirla del mancato giuramento? Ma perché? Evidentemente perché dall'avvocato a cui le avevo detto di voler ricorrere per consiglio prima di denunziare il furto avevo saputo che anche lei e tutti di casa sarebbero stati chiamati responsabili di esso. Ebbene? E non mi aveva e l'ha detto che volentieri avrebbe affrontato lo scandalo? Sì ma io... Era chiaro. Io non avevo voluto. Avevo preferito di sacrificar così 12.000 lire. E dunque doveva ella credere che fosse generosità da parte mia? Sacrificio per amor di lei? Ecco a quale altra menzogna mi costringeva la mia condizione. Stomachevole menzogna che mi faceva bello di una squisita, delicatissima prova d'amore attribuendomi una generosità tanto più grande quanto meno da lei richiesta e desiderata. Ma no, ma no, ma no che andavo fantasticando. A ben altre conclusioni dovevo arrivare seguendo la logica di quella mia menzogna necessaria e inevitabile. Che generosità, che sacrificio, che prova d'amore. avrei potuto forse lusingare più oltre quella povera fanciulla? Dovevo soffocarla, soffocarla, la mia passione. Non rivolgere più ad Adriana né uno sguardo né una parola d'amore. E allora? Come avrebbe potuto ella mettere d'accordo quella mia apparente generosità col contegno che d'ora innanzi dovevo impormi di fronte a lei? Io ero dunque tratto per forza a approfittare di quel furto che ella aveva svelato contro la mia volontà e che io avevo smentito per troncare ogni relazione con lei. Ma che logica era questa? Delle due l'una. O io avevo patito il furto e allora per qual ragione, conoscendo il ladro, non lo denunziavo e ritraevo invece da lei il mio amore come se anche ella ne fosse colpevole. O io avevo realmente ritrovato il denaro e allora perché non seguitavo ad amarla? Sentì soffocarmi dalla nausea, dall'ira, dall'odio per me stesso. Avessi almeno potuto dirle che non era generosità la mia, che io non potevo in alcun modo denunziare il furto. Ma dovevo pur dargliene una ragione. Erano forse denari rubati i miei? Ella avrebbe potuto supporre anche questo. O dovevo dirle che ero un perseguitato, un fuggiasco compromesso, che dovevo vivere nell'ombra e non poteva legare alla sua sorte quella di una donna? Altre menzogne alla povera fanciulla. Ma, d'altra parte, la verità corappariva a me stesso incredibile. Una favola assurda, un sogno insensato. La verità, potevo io dirgliela? Per non mentire, anche adesso, dovevo confessarle di aver mentito sempre. Ecco, a che mi avrebbe condotto la rivelazione del mio stato. E a che pro? Non sarebbe stata né una scusa per me, né un rimedio per lei. Tuttavia, sdegnato, esasperato, com'ero in quel momento, avrei forse confessato tutta ad Adriana se lei, invece di mandare la caporale, fosse entrata di persone in camera mia a spiegarmi perché era venuta meno al giuramento. La ragione mi era già nota. Papiano stesso me l'aveva detta. La caporale soggiunse che Adriana era inconsolabile. E perché? Domandai con forzata indifferenza. Perché non crede, mi spose, che lei abbia davvero ritrovato il denaro? Mi nacque lì per lì l'idea che s'accordava del resto con le condizioni dell'animo mio, con la nausea che provavo di me stesso. L'idea di far perdere ad Adriana ogni stima di me, perché non mi amasse più dimostrandomele falso, duro, volubile, interessato. Mi sarei punito così del male che le avevo fatto. Sul momento, sì, le avrei cagionato altro male, ma a fin di bene, per guarirla. Non crede? Come no, dissi, con un tristo riso alla caporale. 12 milanire, signorina. E che son, rena? Creda che ella sarei così tranquillo se davvero me le avessero rubate. Ma Adriana mi ha detto, si provò ad aggiungere quella sciocchezze, sciocchezze, tronca io. È vero, guardi, sospettai per un momento, ma dissi pure alla signorina Adriana che non credevo possibile il furto. E di fatti, via, che ragione del resto avrei io a dire che ho ritrovato il denaro se non l'avessi davvero ritrovato. La signorina caporale si strinse nelle spalle. Forse Adriana crede che lei possa avere qualche ragione per... Ma no, ma no, ma frettai a interromperla. Si tratta, ripeto, di 12 mila lire, signorina. Fossero state 30, 40 lire, e via. Non ho di queste idee generose, creda pure. Che diamine, ci vorrebbe un eroe. Quando la signorina caporale andò via per riferire ad Adriana le mie parole, mi torsi le mani, me le addentai. Dovevo regolarmi proprio così? Approfittarmi di quel furto, come se con quel denaro rubato volessi pagarla, compensarla delle speranze deluse? Era vile questo mio modo d'agire. Avrebbe certo gridato di rabbia ella di là e mi avrebbe disprezzato senza comprendere che il suo dolore era anche il mio. Ebbene, così doveva essere. Ella doveva odiarmi, disprezzarmi come io mi odiavo e mi disprezzavo. E anzi, per inferocire di più contro me stesso, per far crescere il suo disprezzo, mi sarei mostrato ora tenerissimo verso Papiano, verso il suo nemico, come per compensarlo agli occhi di lei del sospetto concepito a suo carico. Sì sì, e avrei stordito così anche il mio ladro. Sì, fino a far credere a tutti che io fossi pazzo. E ancor più, ancor più, non dovevamo orora andare in casa del Marchese Giglio? Ebbene, mi sarei messo, quel giorno stesso, a far la corte alla signorina Pantogada. Mi disprezzerei ancor più, così Adriana, gemetti, rovesciandomi sul letto. Che altro, che altro posso fare per te? Poco dopo, le quattro, venne a picchiare all'uscio della mia camera il signor Anselmo. Eccomi, gli dissi, e mi recai addosso il pastrano. Son pronto? Viene così, mi domandò il paleari, guardandomi meravigliato. Perché? Feci io. Ma mi accorsi subito che avevo ancora in capo il berrettino da viaggio, che solevo portare per casa. Me lo cacciai in tasca e tolsi dall'attaccapanni il cappello, mentre il signor Anselmo rideva, rideva come se lui... Dove va, signor Anselmo? Ma guardi un po' come stavo per andare anch'io, rispose tra le risa, additandomi le pantofole ai piedi. Vada, vada di là, c'è Adriana. Viene anche lei? Domandai. Non voleva venire, disse avviandosi per la sua camera il paleari. Ma l'ho persuasa, vada, è nel salotto da pranzo già pronta. Con quel sguardo duro di rampogna m'accolse in quella stanza la signorina caporale. Ella, che aveva tanto sofferto per amore, e che si era sentita tante volte confortare dalla dolce fanciullegnara, ora che Adriana sapeva, ora che Adriana era ferita, voleva confortarla lei a sua volta, grata, premurosa. E si ribellava contro di me, perché le pareva ingiusto che io facessi soffrire una così buona e bella creatura. Lei, sì, lei non era bella e non era buona. E dunque, se gli uomini con lei si mostravano cattivi, almeno un'ombra di scusa potevano averla. Ma perché far soffrire così a Adriana? Questo mi disse il suo sguardo, e mi invitò a guardar colei che io facevo soffrire. Com'era pallida. Le si vedeva ancora negli occhi che aveva pianto. Chissà che sforzo nell'angoscia le era costato il doversi abbigliare per uscire con me. Nonostante l'animo con cui mi recai a quella visita, la figura e la casa del marchese Giglio d'Auletta mi destarono una certa curiosità. Sapevo che egli stava a Roma perché, ormai, per la restaurazione del regno delle due Sicilie, non vedeva altro espediente se non nella lotta per il trionfo del potere temporale. Restituita Roma al pontefice, l'unità d'Italia si sarebbe sfasciata e allora, chissà, non voleva arrischiare profezie il marchese. Per il momento il suo compito era ben definito. Lotta senza quartiere, là, nel campo clericale. E la sua casa era frequentata dai più intransigenti prelati della curia, dai paladini più fervidi del partito nero. Quel giorno, però, nel vasto salone splendidamente arredato, non trovavamo nessuno. Cioè, no, c'era nel mezzo un cavalletto che reggeva una tela a metà abbozzata, la quale voleva essere il ritratto di Minerva, della cagnetta di Pepita, tutta nera, sdraiata su una poltrona tutta bianca, la testa allungata sulle due zampine davanti. Opera del pittore Bernaldez ci annunziò gravemente Papiano come se facesse una presentazione che da parte nostra richiedesse un profondissimo inchino. Entrarono dapprima Pepita Pantogada e la governante signora Candida. Avevo veduto l'una e l'altra nella semioscurità della mia camera. Ora la luce, la signorina Pantogada, mi parve un'altra. Non in tutto veramente, ma nel naso. Possibile che avesse quel naso in casa mia? Me l'ero figurato con un nasetto all'insù, ardito, e invece Aquilino lo aveva. E robusto. Ma era pur bella così. Bruna, spavillante negli occhi, coi capelli lucidi, nerissimi e ondulati, le labbra fine, taglienti, accese, l'abito scuro punteggiato di bianco, le stava dipinto sul corpo svelto e formoso. La mite bellezza bionda d'Adriana accanto a lei impallidiva. E finalmente potei spiegarmi che cosa avesse in capo la signorina Candida. Una magnifica parrucca fulva, riccioluta, e sulla parrucca un ampio fazzoletto di seta cilestrina, anzi uno scialle, annodato artisticamente sotto il mento. Quanto vivace la cornice, tanto squallida la faccina magra e floscia, tuttoché imbiaccata, lisciata, imbellettata. Minerva, intanto, la vecchia cagnetta, coi suoi sforzati rocchi abbaiamenti, non lasciava fare i convenevoli. La povera bestiola però non abbagliava a noi, abbagliava al cavalletto, abbagliava alla poltrona bianca, che dovevano essere per lei arnesi di tortura. Protesta e sfogo d'anima esasperata. Quel maledetto ordegno dalle tre lunche zampe avrebbe voluto farlo fuggire dal salone. Ma poiché esso rimaneva lì, immobile, minaccioso, si ritraeva lei, abbaiando, e poi gli saltava contro, digrignando i denti, e tornava a ritirarsi fuori bonda. Piccola, tozza, grassa, sulle quattro zampine troppo esili, Minerva era veramente sgraziata, gli occhi già pannati dalla vecchiaia e i peli della testa incanutiti. Sul dorso poi, presso l'attaccatura della coda, era tutta spelata per l'abitudine di grattarsi furiosamente sotto gli scaffali, alle traverse delle seggiole, dovunque e comunque le venisse fatto. Ne sapevo qualche cosa. Pepita, tutta un tratto, la ferrò pel collo e la gettò in braccio alla signorina candida, gridandole, citò. Entrò in quella di furia Don Ignazio Giglio d'Auletta, curvo quasi spezzato in due, corse alla sua poltrona, presso la finestra, e appena seduto, ponendosi il bastone tra le gambe, trasse un profondo respiro e sorrise alla sua stanchezza mortale. Il volto estenuato, solcato, tutto di rughe verticali, raso, era dunque di un pallore cadaverico, ma gli occhi all'incontro erano vivacissimi, ardenti, quasi giovanili. Gli s'allungavano in guisa strana sulle gote, sulle tempie, certe grosse ciocche di capelli che parevano lingue di cenere bagnata. Ci accolse con molta cordialità, parlando con spiccato accento napoletano, pregò quindi il suo segretario di seguitare a mostrarmi i ricordi di cui era pieno il salone e che attestavano la sua fedeltà alla dinastia dei Borboni. Quando fummo innanzi a un quadretto coperto da un mantino verde su cui era ricamata in oro questa leggenda, non nascondo, riparo, alzami e leggi. Egli pregò Papiano di staccar dalla parete il quadretto e di recarglielo. C'era sotto, riparata dal vetro e incorniciata, una lettera di Pietro Ulloa che nel settembre del 1860, cioè agli ultimi aneliti del regno, invitava il marchese Giglio d'Auletta a far parte del ministero che non si poté poi costituire. Accanto c'era la minuta della lettera d'accettazione del marchese. Fiera lettera che bollava tutti coloro che si erano rifiutati di assumere la responsabilità del potere in quel momento di supremo pericolo ed angoscioso scompiglio di fronte al nemico, al filbustiere Garibaldi già quasi alle porte di Napoli. Leggendo ad alta voce questo documento, il vecchio s'accese e si commosse tanto che, sebbene ciò che ei leggeva fosse affatto contrario al mio sentimento, pure mi destò ammirazione. Era stato anche egli, dal canto suo, un eroe. Nebbi un'altra prova. Quando egli stesso mi volle narrare la storia di un certo Giglio di legno dorato che era pur lì nel salone. La mattina del 5 settembre 1860 il re usciva dalla reggia di Napoli in un legnetto scoperto insieme con la regina e due gentiluomini di corte. Arrivato il legnetto in via di Chiaia dovette fermarsi per un intoppo di carri e di vetture innanzi a una farmacia che aveva sull'insegna i gigli d'oro. Una scala appoggiata all'insegna impediva il transito. Alcuni operai saliti su quell'insegna. Grazie. Grazie. Grazie.